Riparte Ciac Sigita, il fortunato format cinematografico dedicato ai campi scuola e ideato da Francesco Cairone, promo Gite e film studio di Gianni Petrizzo. Giunta alla nona edizione, la manifestazione è anche concorso nazionale che premia i migliori cortometraggi didattici realizzati dalle scolaresche di tutta Italia durante i propri viaggi di istruzione in Cilento e nel Sud Italia. Domenica 12 settembre, il primo Ciac dell'edizione 2021-2022 con 70 alunni dell'Istituto De Amicis Baccelli di Sarno che nello splendido borgo di Castellabate hanno realizzato un cortometraggio sul tema del bullismo. Tornare sul set con gli studenti è meraviglioso, aggiunto il regista Gianni Petrizzo, ringrazio gli alunni e i docenti dell'Istituto De Amicis Baccelli di Sarno per il loro affetto, l'entusiasmante partecipazione e la simpatia. Con loro abbiamo realizzato un lavoro incredibilmente significativo che fa riflettere su un tema troppo spesso presente tra le giovani generazioni. Con questo cortometraggio contribuiremo a sensibilizzare giovani e adulti affinché si possa combatterlo. Francesco Cairone è molto fiducioso sul suo prosieguo. Siamo ripartiti più motivati di prima dopo lo stop della pandemia, ha detto Cairone. Mai come adesso i ragazzi hanno bisogno di socializzazione all'aria aperta ed attività didattico-pratiche per riprendersi la loro infanzia. Stiamo lavorando ad un'edizione speciale a cui spero possano aderire tanti istituti da tutta Italia come nelle ultime edizioni. Ciaxi Gita mira a far conoscere il territorio del Cilento attraverso i luoghi del cinema offrendo agli studenti, in visita scolastica, l'opportunità di diventare protagonisti sia come attori ma anche come tecnici e cineasti di un cortometraggio sociale unico e originale che spinge i giovani a riflettere su tematiche attuali e importanti e ad usare il linguaggio cinematografico per lanciare messaggi positivi. Per maggiori informazioni sulle iscrizioni è possibile visitare il sito internet www.promomed.it oppure telefonare al numero 348 70 27 079.